Ciao a tutti e bentornati finalmente sul mio canale Io sono Diego e sono qui oggi per portarvi un video che dovevo portarvi da molto tempo ma ragazzi perdonatemi se in questi giorni non sono uscito a portarvi alcun video ma sono stato veramente molto ma molto impegnato Sono ben 6 giorni che sono trascorsi dall'ultimo video e cercherò comunque oggi di tornare nella tabella di marcia Per il resto iniziamo subito Il video ragazzi che oggi vi mostrerò vi mostrerò è un video che spero servirà a molti di voi perché a me è servito e molti di voi me l'hanno chiesto mi hanno chiesto Diego come possiamo velocizzare il nostro pc come possiamo ridurre i tempi di accensione ridurre i tempi dei processi anche magari di rendering o anche velocizzare un po' il gioco in gioco il nostro pc eccetera eccetera oggi vi spiegherò 4 metodi che vi permetteranno di velocizzare il vostro pc in modo generale quindi vi permetteranno di acquistare una fluidità più o meno su tutto il campo del computer quindi magari anche un minimo miglioramento in campo gaming naturalmente non è specifico per quel settore ma comunque una velocità superiore per il nostro pc causerà quindi anche una velocità dell'avvio dei giochi eccetera eccetera comunque spero che abbiate capito un po' di cosa si tratta e iniziamo con questo tutorial intanto ragazzi due di questi procedimenti su questi 4 saranno tramite dei programmi comunque quelli da vi lascerò come ultimi i primi due invece andranno a riguardare il nostro sistema e potremo effettuarli direttamente dall'interno come si fa? il primo è veramente molto semplice basta andare sul nostro computer in questo caso può essere ogni Windows quindi dai più recenti ai più vecchi preferibilmente quello più vecchio si intende Windows 7 quindi quasi tutti adesso hanno Windows 7, Windows 8, Windows 10 circa se avete una versione più remota è possibile applicare questi miglioramenti ma magari sarà un po' più lungo il procedimento sarà leggermente diverso comunque per queste versioni che vi ho citato è veramente molto semplice richiamoci nel tasto Start o nel tasto di ricerca e digitiamo MS Config voglio subito dirvi che questo video l'hanno già portato moltissime altre persone ma visto che è veramente molto funzionante voglio portarvelo anche io per espandere questo consiglio a tutti intanto andiamo subito a vedere la sezione Avvio Avvio ragazzi più che altro si Avvio e andiamo nella sezione Apri Gestione Attività questa qua ragazzi sarà la sezione Avvio del nostro PC qua dentro potremo trovare tutti quanti i file che si andranno ad attivare quando il nostro PC si accende cosa molto importante come potete vedere i file sono veramente moltissimi e di questi circa saranno non so una quindicina di questi 15 ragazzi ne ho disabilitati 14 facciamo caso adesso non li ho contati comunque vabbè fate caso che se tutti quanti solamente uno non ho disabilitato perché lo utilizzo ma comunque è possibile disabilitarli veramente tutti naturalmente se avete un antivirus è preferibile lasciare quello attivo per il resto disabilitate tutto tranne le cose che magari non conoscete o su cui non vi siete informati ad esempio Skype, Daemon Tools Bluestacks, prodotti Apple eccetera eccetera sono prodotti che si vanno ad accendere durante l'accensione del nostro computer e causano un veramente pazzesco rallentamento attualmente il mio PC si accende in 14 secondi forse anche un po' di meno comunque questo qua grazie anche alle SSD ma disattivando queste opzioni sono riuscito veramente a trovare degli ottimi miglioramenti quindi ve lo consiglio anche a voi un'altra cosa che dovremo andare a fare sarà nella sezione servizi qua vi consiglio di disabilitare tutti i servizi che non vi interessano perfetto come potete vedere io non ne ho disabilitato ancora nessuno perché ho aspettato questo video per poterlo fare mi raccomando lasciate questa spunta disattiva se no rischiate di disabilitare anche cose che non dovete per il resto le cose che dovremo andare a disabilitare io le farò meglio più avanti saranno ad esempio Bluestack Service o tutte quelle cose che si vanno a mettere con dei nostri programmi scaricati di terze parti come può essere ad esempio non lo so vediamo un pochino cosa ci sta ad esempio fax che non utilizzo o ad esempio vediamo un po' qualche cosa che può essere inutile naturalmente cercate di non disabilitare cose che non conoscete ecco quindi preferibilmente cose specifiche Origin Client Service anche Origin Web Helper Service Office 64 Source Engine e veramente tantissime altre cose mi raccomando voi studiatele io lo farò più avanti cercate mi raccomando di non disabilitare cose dell'Apple della Microsoft perdonatemi anche Skype Updater ma solamente cose che sapete che non sono così importanti per il resto andiamo a fare su Applica e andiamo alla sezione opzioni d'avvio in questo caso andiamo su opzioni avanzate e qua come potremo vedere avremo delle varie impostazioni tra cui numero di processori il mio AMD è un quad core ma come vedete di processori automaticamente ne è solamente uno disponibile questa è una cosa che quasi tutti i pc hanno quindi è automaticamente setato a un core quindi se il mio ha un quad core ne utilizzerà solamente uno e questo non andrà a usufruire il 100% del mio processore questo cosa causerà un sfruttamento non totale quindi è come avere una 960 e utilizzare magari la metà di una 960 che non è la stessa cosa nella sezione gaming questa è come avere un AMD ma utilizzare un processore a un core quindi fateci caso che non è non è funzionale quindi andiamo a mettere 4 core o comunque il massimo dei core che abbiamo naturalmente se avete molti core vi consiglio di metterli come massimo 6 e il resto di lasciarli per altre funzioni in questo caso facciamo ok e dopo aver fatto ok applica e ok ancora alla fine dovremo andare a riavviare il pc io metto non riavviare perchè adesso sto registrando comunque voi cercate di riavviare ad ogni passaggio importante questo ragazzi era il primo procedimento e il secondo qual è andare nelle impostazioni di sistema in questo caso basterà cercare sistema qui eccolo qua aspettiamo che si apra qua troveremo tutte le nostre informazioni sistema operativo processore eccetera eccetera qua dovremo andare su impostazioni di sistema avanzate e su prestazioni clicchiamo su impostazioni questo è un procedimento veramente molto importante che darà veramente degli ottimi risultati qua come potremmo vedere sarà messo su scelta automatica impostazioni migliori almeno nel mio computer naturalmente ragazzi vi do un consiglio per quelli che hanno un pc non ottimo se avete un computer con una 1070 con un i5 sky lake e prodotti buoni è quasi inutile che voi andiate ad ottimizzare i tempi perchè avete già degli ottimi tempi e in questo caso andrete ad abbassare un po' qualche effetto però se volete ancora ottimizzare al massimo fatelo perchè è veramente molto utile cosa dovremmo andare a fare qua qua troveremo tutte quante quelle animazioni quelle impostazioni che vanno a rendere più caruccio diciamo così o più funzionali in alcune cose il nostro pc quindi ad esempio la dissolvenza le animazioni quando si avvia il pc eccetera eccetera che sono cose carine ma che effettivamente non servono e che vanno solamente a rallentare il computer e a stressare il computer quindi io vi consiglio di mettere regole in modo da ottenere le prestazioni migliori questo andrà a disabilitare tutto è vero che tutto magari è un po' cioè viene un po' strozzata la bellezza del nostro computer quindi in questo caso andiamo a selezionare quelle che preferiamo ad esempio possiamo selezionare magari mostranti prima anziché icone sposta in modo uniforme le finestre di riepilogo di riepilogo eccetera eccetera in questo caso io non ne ho bisogno quindi metto scelta automatica e sono tutte quante attivate tranne alcune potremmo mettere anche rispetto migliore che l'attività a tutte ma comunque io metto impostazioni migliori naturalmente come ho già detto se avete un pc non buonissimo andate a selezionare le prestazioni migliori e magari aggiungete solamente quello di cui ne avete bisogno adesso mi sta crashando il pc ottimo ottimo questo può capitare perché andiamo a cambiare delle impostazioni abbastanza importanti comunque fa niente questo qua ragazzi è il secondo metodo che è all'interno del pc adesso invece andiamo a vedere i programmi che possono darci una mano sono tutti e due programmi gratuiti tutti e due molto leggeri e tutti e due veramente molto importanti il primo ragazzi lo conoscerete tutti si chiama Ccleaner vi lascerò il link a tutti i due programmi qua sotto in descrizione basterà scaricarli e installarli sono gratuiti come ho già detto e molto leggeri quindi per avviare Ccleaner o lo cerchiamo qua o facciamo tasso destro apri Ccleaner questo qua ragazzi è uno dei più famosi per andare a pulire il pc rimuovere la cache e pulire il registro è un programma che permetrà più o meno di fare una grande pulizia ma non profondissima comunque quella lì potremmo farla magari quando saremo un po' più esperti nella prima pagina potremmo fare la pulizia di alcuni file ad esempio abbiamo Microsoft Edge che io non utilizzo quindi andrò a spuntare tutto quanto adesso non so perché fa la freccia di caricamento eccomi qua ragazzi per un attimo in realtà abbiamo avuto un piccolo problema comunque ritorniamo a quello che stavamo dicendo qua noteremo varie sezioni tra cui dei programmi già installati o delle applicazioni installate in successione comunque andiamo a vedere alcuni programmi come ad esempio Microsoft Edge che sono programmi che io non utilizzo ad esempio utilizzo Chrome quindi andiamo a togliere tutte queste spunte stessa cosa varrà anche per Internet Explorer naturalmente se voi li utilizzate datevi una bella letta e salvate magari le password o le informazioni sui moduli la cronologia eccetera eccetera ma in questo caso io non lo utilizzerò quindi andrò a togliere anche su esplora risorse le password non mi servono su file di sistema ragazzi vi consiglio di cercare tutto così anche per avanzate comunque log event di Windows magari potremmo anche toglierlo ma se non sapete bene cosa fate mi raccomando non disabilitate queste cose importanti per il resto andiamo su applicazioni Firefox non lo utilizzo quindi togliamolo e come ultima cosa tra l'underboard che serve il mio motore di ricerca togliamo preferenze sito e compatta database no questo va lasciamo se dopo mi cancellano alcune cose invece ad esempio su Google Chrome che io lo utilizzo spesso lascerò tutto com'è e invece su Office potremmo andare anche a fare una spunta anche su malware bytes anti malware che andremo a vedere più avanti una volta che abbiamo fatto tutto questo procedimento potremmo andare a cliccare su analizza e qua se non lo farete da un po' come nel mio caso avremo veramente tantissimi megabyte di spazzatura chiamata anche monnezza che sono da buttare infatti questo programma ci può richiedere molto tempo se avete un pc molto vecchio nel mio caso è abbastanza veloce perché lo tengo abbastanza pulito il mio computer ma comunque non facendo questa scansione da molto tempo come vedete richiede qualche minuto per il resto questo programma ci permetterà anche di fare altre impostazioni che però vi farò vedere più avanti ecco qua come potremmo vedere ha ben trovato 2000 megabyte da rimuovere quindi tutti i file che non mi interessano non so se sono 2000 megabyte o 2 megabyte credo 2 da quello che vedo perché sono tutti kilobyte comunque 2 megabyte che sono pochissimi in questo caso solamente file multimediale o file di firefox comunque se avete un pc molto lento fidatevi che può trovare molto di più quindi facciamo una bella pulizia e vedrete che vi renderà anche di poco il vostro computer più scattante una volta dopo aver fatto la nostra pulizia se magari ci permetterà di finirla ecco qua andiamo sul registro e qua lasciamo tutto spuntato e andiamo su trova problemi qua ragazzi come vedrete troverà miriadi e miriadi di problemi questo perché ogni giorno nel nostro registro di sistema salta qualche chiave salta qualcosa questo anche quando andremo a lineare qualche programmino ed è più che normale non vi preoccupate quando andate su ripara selezionati facciamo no seleziona ripara selezionati e avrà fatto è veramente molto veloce fate più volte questa scansione perché ci sono dei problemi che si infilano sotto cartelle eccetera eccetera quindi magari è un po' più difficile che le ritrovi finché non trovate alcun problema fatele fatele molto spesso ok ancora un'altra volta perfetto ma dico tutti i programmi del nostro pc anche quelli già installati di sistema e poi andiamo a vedere anche l'avvio che qua è un procedimento più o meno quello che vi ho fatto a vedere all'inizio ma qua è magari un po' più esteso ad esempio possiamo togliere questo qua di microsoft che non ci serve il programma ccleaner che non ci serve e poi magari anche windows defender che non utilizzo e malware bytes che non utilizzo cioè lo utilizzo ma non mi serve neanche questo facendo così avremo veramente un accesso più veloce al computer processi pianificati ragazzi non ci servono o almeno a me non servono quindi vado a togliere tutti quanti e in menu contestuale lascio solamente di solito with RAR perché è quello che utilizzo veramente di solito quindi togliamoli tutti quanti che non servono ragazzi quindi in questo caso ci sta un errore si vede che qualcosa che non posso togliere forse va cancellato no esatto ok non va non so perché comunque potremmo andare a modificare veramente tantissime cose ma semmai quello là lo dedicherò a un video più specifico per il resto andiamo a vedere l'altro metodo l'altro metodo ragazzi lo effettueremo con malware bytes un programma che vi ho citato più volte in questo video ed eccolo qui funziona anche da antivirus ma in questo caso non lo è perché non fa la protezione in tempo reale non essendo la versione premium o premium chiamatela come volete non so perché non è startata vediamo un po' se magari mi parte mi farebbe per un favore ecco qua sta partendo come potete vedere questa qua è la versione free come vi ho già detto la versione che potete scaricare dal sito che vi permetterà di fare ogni quanto vorremo una scansione nel nostro pc per trovare file cattivi ecco ragazzi una delle cose che ci permette una velocità migliore sono proprio l'eliminazione dei virus o dei file che potrebbero incidere nel sistema questa è una delle cose più importanti mi raccomando se non avete un pc pulito dai virus non potete aspettarvi una velocità quindi mi raccomando utilizzate questi programmi come esempio malware byte che è uno dei meno invadenti e a mio parere uno dei migliori in questo campo come antivirus no cioè come antivirus magari si però non lo utilizzo quindi non vi so dire ma per pulizia e scansioni è veramente molto buono quindi fate una scansione approfondita mi raccomando quindi o personalizzata andare a segnare più o meno tutto quindi disco locale di E eccetera eccetera tutti i disco locale che avete e lasciate più o meno tutto quanto spuntato eccetera eccetera in questo caso andiamo a fare su scansione e qua ci poterà una scansione approfondita di ogni di ogni di ogni impostazione quindi ci farà delle analisi ricerca analisi della memoria della bio registro eccetera eccetera finchè lo troverà e scanalizzerà tutti i file troverà qualche problema e ce lo risolverà automaticamente quindi veramente ottimo questo programma per il resto ragazzi che dire il video è finito come possiamo vedere sta trovando veramente moltissimi file e sta analizzando e per adesso alcun problema nessun rilevato per il resto spero che vi sia servito se è stato così lasciate un bel mi piace e per novità eccezionali contest eccetera eccetera fate un salto nel mio canale telegram qua sotto in descrizione che siamo quasi 900 e vedo che siete abbastanza attivi vi ringrazio per la visione lasciate un bel like una bella iscrizione se non siete ancora iscritti per il resto ragazzi da Diego tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao belli ciao 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 ciao